Iniziamo il collo, quindi partiamo. Dicevo che sono scaldato prima, quindi non è necessario fare un scaldamento pre allenamento. Quindi da questa posizione è importante che i piedi iniziano vicini al sedere, mani sotto il mento, iniziamo a scaldarci in questo modo. Una, due, due. Ecco, qua ne datterla. Pronte. Ok, iniziamo con le mani in questo modo. Ok, scaldiamo. Ok, da qui metteremo la posizione, posso tornare da questo, ok? Ok, adesso mettiamo posizione. Pronto a terra, guardia a terra, quindi andiamo in ponte, rimani con il camionconte. Ok, mi giro, quando mi giro, questo, e riparto. Ora passo sotto con l'altra gamba girando, quindi rimanendo sempre in contatto con la testa in terra. Ok, questo è il terzo episodio per gli esercizi per scaldare, per formare la scuola del collo che serve sia per la lotta che per i colpi. Oss!